Contestualmente al festival sui nuovi linguaggi della scena contemporanea si è tenuto presso il circolo cittadino di Castrovillari un incontro per discutere sui sistemi teatrali regionali come momento di confronto tra rappresentanti istituzionali a sostegno delle attività teatrali. Abbiamo costruito proprio un momento di confronto sulle politiche culturali regionali che ci sembrava molto utile molto attuale soprattutto per quello che sta succedendo in Calabria dove per fortuna adesso delle cose si stanno muovendo e si è costituito il coordinamento teatrale calabrese quindi è una novità rilevante inedita per questa regione. A concludere la giornata lo spettacolo dal titolo La Cerimonia del teatro Metastasio di Prato con la regia di Oscar de Summa che ha incantato il pubblico del Sibaris. Non un'apatia generazionale ma un ponte vero e proprio tra un classico quello di Edipo e la realtà contemporanea tutto questo è molto altro è la cerimonia. Sì il complesso di Edipo noi lo abbiamo sullo sfondo più che come tragedia proprio come complesso cioè come struttura familiare all'interno delle quali si creano poi le condizioni necessarie per rivolgersi all'esterno cioè qual è il desiderio che ci muove nella vita che cosa è la nostra direzione dove stiamo andando come si crea quel momento lì e di seconda battuta studiando qua e là abbiamo individuato che la prima causa forse dell'assenza di una certa direzione nelle nuove generazioni è proprio l'assenza dei padri non essendoci il padre non c'è quella funzione di separazione tra la madre e il figlio cioè quella simbiosi che è naturale dopo la nascita non essendoci quella separazione naturalmente le nuove generazioni non hanno una vera e propria identità questo è la base del nostro lavoro